Ciao a tutti! Oggi vi volevo far vedere come si esegue il punto maglia con l'uncinetto tunisino, quindi con la tecnica tunisina. Per prima cosa andiamo ad avviare le nostre maglie, le nostre catenelle. Io ne avvierò 5, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Poi senza fare nessuna catenella chiaramente per alzarsi, quindi direttamente si rientra nella prima maglia libera, quindi non quella da dove esce l'asola che abbiamo sull'uncinetto, ma quella prima. Ora ci sono anche qui varie tecniche. Si può prendere o all'interno, si entra nel centro della catenella così, oppure si può girare e prendere la barretta retro. Io vi faccio vedere in questo momento la tecnica classica, quindi quella dove si entra al centro della catenella. Quindi si rientra e si prende, si carica il filo e si tengono chiaramente le asole sull'uncinetto, quindi ne abbiamo 2, 3, vado al centro 4 e anche qui vedete al centro 5. Poi si fa il ferro di ritorno, quindi si carica l'uncinetto e per la prima volta si, diciamo così, chiude solo una maglia. Poi si carica ancora il filo sull'uncinetto e adesso si chiudono sempre a 2 a 2 fino alle ultime, così rimaniamo con una sola asola sull'uncinetto. Fin qui sembra la tecnica tunisina, quella quella del punto classico. In realtà è il ferro di andata che adesso cambia, perché anziché prendere la barretta e lavorarla, quindi anziché lavorare in questa maniera come si fa solitamente con l'uncinetto tunisino, noi andiamo a entrare nella maglia della barretta, ma nella maglia, quindi non prendiamo solo la barretta, ma attenzione io adesso apro il lavoro per farvelo vedere. Vedete che questa maglia fa questo giro, io entro prendendosi la barretta, ma vado nel mezzo della maglia, passo dall'altra parte, carico il filo ed estraggo. Qui lo vedete bene che la maglia fa questo giro, io ci sono entrata nel mezzo e così continuo, anche qui lasciando stare le catenelle di ritorno, vedete, ve la apro bene anche qui, vedete che la maglia fa questo giro, io entro nel mezzo, carico e lo faccio per tutte le mie maglie. L'ultima, attenzione, è questa, vedete la barretta verticale, ma non la devo prendere così, perché se no le maglie mi rimarrebbero brutte, non sarebbe chiuso, diciamo così perfettamente, quindi entro sì, ma prendo due fili, vedete, non prendo solo la barretta, passo dall'altra parte e prendo due fili e poi estraggo l'asola, quindi ho sempre 5 asole caricate sul mio uncinetto. Adesso il ferro di ritorno e chiudo sempre una maglia da sola e poi le altre a due a due. Ve lo faccio rivedere un'altra volta il ferro di, il ferro, scusate, il passaggio di andata, perché è quello forse un po' più complicato. Qui forse la vedete meglio, l'asola, ok? Entro a metà dell'asola, passo dall'altra parte, carico ed estraggo. Eccola qui, l'asola, entro, carico, estraggo. Eccola qui, vedete, qui si vedono meglio, entro, carico ed estraggo e l'ultima, come vi ho detto, entro, ma anziché prendere solo un filo prendo anche quello dietro per avere una finitura migliore e poi appunto prima ne chiudo una e poi vado e chiudo a due a due. È una tecnica molto semplice che praticamente mima, è molto simile alla maglia rasata appunto del lavoro con i ferri. Adesso ne faccio un pezzettino così vi faccio vedere meglio. Ecco qua, vedete, sembra proprio la maglia rasata lavorata con i ferri. Anche il retro si presenta simile, diciamo così, alla maglia rasata. Secondo me è un punto comunque double fast perché a me piace molto anche il retro. Chiaramente non è identico da entrambi i lati e come la maglia rasata nei ferri, vedete, tende ad arrotolarsi. Quindi se dobbiamo fare un lavoro solo con appunto il punto maglia, dobbiamo poi bloccarlo perché sennò eccolo qui che si arriccia tutto. Vi faccio vedere anche il profilo sia da questa parte che da questa che vedete ha proprio la catenella che a me piace. Vi faccio adesso vedere comunque il ferro da andata un'altra volta perché man mano che si lavora è più semplice vedere come prendere le due maglie finali. Quindi abbiamo detto che per lavorarlo si rientra nella prima maglia prendendola nel centro passando dall'altra parte caricando e così vedete anche per gli altri. Se io apro lo vedete proprio dove sono i punti dove bisogna entrare. Chiaramente il rispetto alla maglia rasata è molto più spessa come d'altronde lo è la lavorazione al tunisino. Ecco però diciamo così che quando io, a parte che è un punto che mi piace comunque al tunisino, ma quando soprattutto lo devo abbinare con una lavorazione a maglia e ferri ecco che mi piace molto di più utilizzare questo punto forse per continuità. Siamo arrivati a dover prendere vedete l'ultima barretta che è proprio questa. Quando la prendiamo non la prendiamo così da sola ma come vi ho detto ne prendiamo due e qui è molto più semplice perché vedete è praticamente la v rovesciata che dobbiamo andare a prendere. Lo faccio bene rivedere la prendiamo così le prendiamo tutte e due ed ecco qua che l'abbiamo caricato sul nostro uncinetto. Bene io spero che questo video vi sia stato utile se è così mettetemi un mi piace e non dimenticate di iscrivervi cliccando qui sotto iscriviti e la campanella. Noi ci vediamo alla prossima ciao